Ciao a tutti ragazzi, sono StarBlack e benvenuti in una puntata di Minecraft Tutorials. In questa puntata vi spiegherò come ricreare il macchinario per il grano in modo che il grano si raccolti da solo in un unico punto in modo che lo potete raccattare in una sola volta. Allora, iniziamo a fare un generotto, lato 1, largo 4, 4, 1, 2, 3, 4, poi di fronte ci si rifà una specie di vasca, poi dopo la decoriamo a modo. In queste due vasche ci si mette l'acqua, qui in questo pianerotto di largo 4 la zappiamo in modo che l'acqua dopo la renda fertile per poterci seminare. Ci seminiamo il grano, oppure il grano è basta, si può fare il grano. Poi dietro ci si fa una specie di scalinata. Qui attaccioniamo il grano. Qui attaccioniamo il passettino, le due vasche. e ci si mette qui il vetro poi qui dietro ci si fa un'altra vasca ora lo faccio solo di terra perché mi sono ritratto questo elemento in mano poi lo potete decorare in modo molto meglio di me poi ci si fa qui ci si piazzano vabbè, non puoi mettere qui ci si mettono i pistoni ci si mettono i pistoni con gli appiccicosi poi qui ovviamente ci fa il famoso collegamento con il ripitere e la resto e si fa bene e ora ci si mette l'acqua qua dentro facciamo un tentativo si ci arriva ora va un po' sparta perché non ci ho fatto la fossetta sotto e chiuditi chiuditi perché non va così si chiude il flusso d'acqua allora a questo punto facciamo uscire il grano aspetta aspetta un attimo ragazzi ok e poi qui ci si fa un fosso una buchetta che ci si può decorare con un pianerottolino così in modo che noi possiamo scendere e salire per recuperare il nostro grano ok ragazzi il grano quando sarà cresciuto in modo si presenterà ora con questa skin nel senso con questa texture pack in questa maniera poi in quella normale default vedete che è tutta marroncina allora tirate la leva vedete che l'acqua si provvederà a spiantare tutto il grano lo aspettate qui tranquillamente che 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 l'acqua spinga giù il grano richiudete acqua si leva ed ecco qua il vostro raccolto ora volendo cioè poi volendo lo potete fare molto più grande più stessi rispetto a me però questo è per farvi vedere qua nulla per ripiantarlo lo ripiantate a mano però ci vuole ci metterete ci metterete molto meno nella raccolta questo perchè non si vi risparmierà molta fatica nell'appartarne uno per uno vabbè per questo tutorial è tutto anche se il macchinario fa un po' schifo è tutto ragazzi e alla prossima ciao ciao